buongiorno ben ritrovati tutti siamo giunti alla lezione 22 con la quale come potete vedere entriamo nei regimi variabili in particolare nel regime sinusoidale però questa lezione in realtà è dedicata a una parte preliminare propedeutica allo studio delle reti in regime sinusoidale che è costituita dalla presentazione e poi dalla strumentazione matematica che viene usata per affrontare in modo efficace l'analisi di questo tipo di reti e tutto questo riguarda il capitolo 14 delle slide e del libro ovviamente quindi passiamo alla slide successiva e diamo per prima cosa la definizione di funzione periodica definizione semplice e intuitiva una funzione periodica se ripresenta lo stesso andamento a intervalli regolari di tempo da un punto di vista matematico questa proprietà è descritta dalla relazione che vedete ogni intervallo di tempo pari a t o multiplo t è una grandezza che si misura in secondi e n è l'intero che ne rende multiplo ritroviamo lo stesso valore quindi ad esempio in questo istante in questo istante e così via se volete in questo istante in questo istante così via bene detto questo diciamo che il tempo nel quale minimo nel quale ripresenta lo stesso andamento si chiama periodo si misura appunto in secondi come ho detto e la proprietà è appunto quella di ripetersi periodicamente ad ogni periodo trascorso si dice che la grandezza ha eseguito o esegue un ciclo altra grandezza importante per qualificare questi comportamenti oltre al periodo anzi addirittura direi più popolare è la frequenza che abbiamo nelle orecchie che cos'è la frequenza la frequenza esprime si indica con la lettera f indica il numero di cicli che la grandezza esegue in un secondo però è abbastanza ovvio intuitivo che se per fare un ciclo ci mette t maiuscolo frazioni di secondo e se il numero di cicli in un secondo è pari a f t per f deve fare proprio uno quindi questo è il legame tra frequenza e periodo in altre parole la frequenza è il reciproco del periodo pari a secondi alla meno uno ma in realtà esiste una unità di misura specifica sono gli hertz e diciamo subito che nei fenomeni elettrici piuttosto che gli hertz si incontrano anche gli hertz per carità ma molto spesso si incontrano anche dei multipli molto maggiori le migliaia di hertz i kilohertz i milioni di hertz megahertz e i miliardi di hertz i gigahertz i nostri telefonini funzionano nei segnali che trasmettono e ricevono a frequenze che sono di qualche gigahertz come credo voi sappiate bene per quanto riguarda la presentazione generale delle funzioni periodiche ci accontentiamo di dire questo per ora poi torneremo sulle funzioni periodiche ma come vi ho detto fin dall'inizio adesso ci importa concentrarci vado alla slide successiva sulle funzioni sinusoidali che sono sì periodiche ma tra tutte le periodiche sono di gran lunga le più importanti per una serie di motivi teorici e applicativi ma come è fatta una come scriviamo noi una funzione sinusoidale del tempo beh la vedete espressa qui è un a massimo per il seno di omega t più alfa l'andamento temporale quello che vedete rappresentato nel diagramma e i parametri che qualificano questa funzione sinusoidale sono tre ovviamente a massimo omega e alfa a parte il tempo t che ovviamente è il tempo e basta allora vediamo di conoscere questi parametri a massimo si chiama ampiezza oppure valore massimo da qui deriva il simbolo che usiamo per indicarlo a compedice m e è quello che definisce l'unità di misura della grandezza se a massimo si misura in volt stiamo parlando di una grandezza di t che ha una tensione si misura in volte se stessa viceversa se si trattasse di una corrente a massimo si misurerebbe in ampera ovviamente quindi non ho precisato qui l'unità di misura per questo motivo il termine che sta dentro parentesi a moltiplicare il seno è l'argomento del seno in termini matematici e in termini elettrici noi lo chiamiamo fase istantanea si misura in radianti come anche l'argomento del seno ovviamente per i matematici l'unità di misura è radiante anche se poi ogni tanto ci concederemo la licenza poetica di ragionare in termini di gradi avendo in mente la conversione da radianti a gradi chiaramente bene fase istantanea perché dipende dal tempo t man mano che passa il tempo questo omega t più alfa varia istante dopo istante quando t il tempo è uguale a zero la fase istantanea si riduce al solo alfa e quindi alfa è la fase iniziale cioè il valore della fase istantanea per t uguale a zero ovviamente si misura in radianti mentre omega omega è il coefficiente che moltiplica il tempo dentro all'argomento del seno dentro la fase iniziale si chiama pulsazione oppure frequenza angolare e si misura in radianti al secondo perché moltiplicandola per il tempo che si misura in secondi devono saltare fuori radianti ovviamente questa è l'espressione tipica delle sinusoidi che usiamo noi ovviamente qui resta un dubbio deve rimanere un dubbio ma dove vedo io il periodo t maiuscolo che nel diagramma temporale è evidente qui avviene l'esecuzione di un ciclo che non mi appare assolutamente dentro all'espressione della sinusoide che ho presentato qua sopra beh in realtà c'è omega in realtà cioè scusate c'è il periodo t ma è celato in mezzo ad omega vediamo subito come bisogna ragionare per estrarlo allora abbiamo detto che la funzione una funzione periodica che esegue un ciclo in un intervallo di tempo che pari a t maiuscolo periodo appunto ebbene per compiere un ciclo cosa deve fare l'argomento della sinusoide deve incrementare ovviamente di 2 pi greco quindi la relazione è questa 2 pi greco radianti la relazione è questa omega la pulsazione che sta qui moltiplicata per il periodo t deve dare appunto un incremento di un ciclo cioè 2 pi greco radianti ed ecco quindi che possiamo estrarre da collegare omega al periodo t riconoscendo che omega è due volte pi greco diviso il periodo se volete avrei potuto dire anche il periodo è due volte pi greco diviso omega oppure anche tenendo conto della relazione vista poco fa tra omega e scusate tra il periodo t e la frequenza f omega è due volte pi greco la frequenza quindi dove abbiamo ad esempio una frequenza di 50 hertz che è una frequenza che abbiamo nelle orecchie abbastanza frequentemente è la pulsazione angolare vale due volte pi greco per f 314 radianti al secondo ok c'è da dire ancora fare ancora un commento che riguarda alfa alfa è la fase iniziale si esprime radianti in linea di principio qui dentro questa espressione possiamo tollerare qualsiasi valore di alfa ma poi per normalizzazione per non avere dei numeri tanto grandi che sono esageratamente grandi vista la periodicità di 2 pi greco noi riduciamo normalizziamo alfa ad essere limitato tra meno pi greco e più pi greco in modo appunto da coprire tutta l'ampiezza di un ciclo che è di 2 pi greco radianti e tenete conto che lo vedremo dopo una conseguenza importante di questo qualsiasi valore tra meno pi greco e più pi greco è legittimo e in particolare nel caso dei due estremi si ritrova di fatto data la periodicità di 2 pi greco esattamente la stessa condizione bene vediamo un poco come intervengono i tre parametri fondamentali che sono ampiezza fase iniziale e pulsazione angolare nell'andamento temporale della nostra sinusoide allora al variare dell'ampiezza fissi ristando gli altri parametri aumenta il valore massimo raggiunto dalla sinusoide ecco qui al crescere dell'ampiezza come possono variare come varia l'andamento di tre sinusoidi che hanno gli altri parametri identici al variare della pulsazione avviene questo quanto più grande è omega tanto più in fretta si manifesta un periodo e quindi tanto più breve il tempo necessario a creare un oscillazione completa come vedete con la curva viola abbiamo solo mezza oscillazione mezzo ciclo con la curva cerchietti abbiamo un oscillazione completa quindi omega è cresciuto e con la curva a crocette abbiamo due oscillazioni completa quindi omega è ancora cresciuto è raddoppiato ogni volta passando da una curva all'altra per quanto riguarda la fase iniziale anche qui dobbiamo fare attenzione ecco quello che avviene la al variare della fase iniziale avviene una traslazione rigida lungo l'asse temporale delle nostre sinusoidi però quello che è un po controintuitivo qualche volta le persone ci cascano è che all'aumentare della fase iniziale alfa avviene una traslazione uno spostamento verso sinistra verso valori negativi o più piccoli del dell'asse temporale non viceversa come qualche volta ciascuno erroneamente pensa avvenga quindi se ad esempio la situazione con i cerchietti e quella non è esattamente un alfa uguale a zero qui c'è un errorino grafico ma concedetemelo è quasi zero si ha questo andamento se alfa diventa positivo più grande ad esempio più pi greco sesti ecco che la curva si trasla in quella delle stelline rosa che sta più a sinistra mentre se alfa diventa più piccolo meno pi greco sesti abbiamo una traslazione verso destra verso assi dei tempi più alti valori temporali più alti bene un'altra cosa che vale la pena di dire è questa io vi ho presentato una funzione sinusoidale espressa in seno ma altrettanto legittimamente posso esprimere una funzione sinusoidale in coseno e il passaggio dall'una all'altra lo sapete benissimo qual è dati i legami che esistono tra seno e coseno la funzione a massimo seno di omega t più alfa la posso scrivere anche come a massimo coseno di omega t più alfa meno pi greco mezzi appunto questa è la traslazione dell'argomento che mi permette di passare da seno a coseno che vuol dire che scritta in coseno la fase iniziale cioè quanto vale l'argomento del coseno per t uguale a 0 è alfa meno pi greco mezzi che chiamo delta come scritto qui e quindi qua bisogna fare attenzione c'è una cosa che può essere insidiosa cioè il capire quanto devono valere le fasi iniziali interpretandole a secondo che la funzione sia in seno o coseno la cosa sia scritta in seno o coseno questa cosa può creare delle difficoltà può trarre in inganno può costituire un trabocchetto quindi per evitare il rischio di fare errori pacchiani di questo tipo noi decideremo di scrivere tutte le funzioni sinusoidali che trattiamo in una rete o tutte in seno o tutte in coseno in tal modo siamo sicuri di non cadere in errore ripeto sono legittime entrambe le scritture però tutte le nostre grandezze di rete le scriviamo in seno se vogliamo il seno oppure tutte in coseno se vogliamo così e in tal modo evitiamo queste ambiguità e questi trabocchetti ok detto questo adesso diamo delle definizioni sintetiche estremamente importanti la prima è la definizione di valore efficace il nome inglese è RMS Value dove RMS è un acronimo sta per Root Mean Square che vuol dire valore medio sotto radice radice del valore medio al quadrato scusami ho dimenticato il quadrato certo il quadrato e come rivela appunto la definizione inglese come induce immaginare la definizione inglese la definizione è quella che vedete qua bisogna prendere la funzione periodica perché questa è una definizione vedete scritta chiaramente qua che applichiamo tranquillamente a qualsiasi funzione periodica ne facciamo il quadrato e quindi otteniamo valori tutti positivi facendo il quadrato vi faccio notare poi questo quadrato lo integriamo in un intero periodo dopodiché dividiamo l'integrale ottenuto per il periodo e in tal modo ovviamente si ottiene la media del quadrato mean square dopodiché tutto quello tutto quello che abbiamo ottenuto lo mettiamo sotto radice e facciamo appunto la root la radice e quello che ne viene fuori si chiama valore efficace e si indica con la lettera A ecco vedete quindi perché uso il pedice M per l'ampiezza per non confonderlo con il valore efficace che si indica con A e basta faccio notare che se facciamo un minimo di analisi dimensionale vediamo che l'unità di misura di A del valore efficace è uguale all'unità di misura della grandezza e quindi anche dell'ampiezza quindi se la grandezza è una tensione il valore efficace si misura in volt se la grandezza è una corrente il valore efficace si misura in ampere altra cosa importante ovviamente per come è costruito per il fatto che qui dentro c'è un quadrato il valore efficace assume sempre valori positivi come caso limite nullo ma questo avviene per le funzioni che interessano a noi quando questa funzione periodica è identicamente nulla ovviamente non andiamo a pensare alle funzioni folli che amano inventarsi i matematici quando fanno i controesempi di proprietà strane investigate appunto in ambito matematico per noi la cosa è banale è stata di funzioni continue a tratti pertanto se è nulla il valore efficace è nulla l'intera funzione bene detto questo vediamo quanto vale il valore efficace cioè questa espressione nel caso appunto di una funzione sinusoidale perché questa è la definizione generica per funzione periodica passiamo a una funzione sinusoidale la funzione sinusoidale l'ho riportata qua sopra applichiamo la definizione il valore quadratico medio sotto radice che abbiamo visto prima e eseguiamo l'integrale la radice eccetera vi risparmio i passaggi non è un calcolo molto difficile si ottiene che il valore efficace è uguale all'ampiezza al valore massimo diviso la radice di 2 questo mi conferma che hanno la stessa unità di misura come vedete ora siccome la radice di 2 è 1,414 eccetera facendo il reciproco viene 0,707 quindi circa il 71% di massimo e qua vedete effettivamente quello che viene fuori questa è una sinusoide l'ampiezza o valore massimo è il valore massimo della funzione il valore efficace sta qui sotto è il 71% circa ovviamente rovesciando questa relazione potete anche dire che l'ampiezza è radice di 2 volte più grande del valore efficace ovvero potete esprimere l'ampiezza in funzione del valore efficace il che non è una cosa di poco conto perché in effetti nelle applicazioni perlomeno delle reti elettriche nelle applicazioni di potenza elettrica il valore efficace è più importante dell'ampiezza tanto che si scrive la sinusoide non come ve l'ho indicata qui in alto ma piuttosto come la riscrivo qui vedete che al posto dell'ampiezza compare proprio radice di 2 per il valore efficace si mette in luce in evidenza il valore efficace per rendervi conto del fatto che il valore efficace è più importante dell'ampiezza vi faccio un esempio banale ma immediato la palissiano quando noi parliamo di una tensione alternata a 220 volt che è quella che abbiamo in casa poi in qualsiasi presa parlando di 220 volt indichiamo proprio il valore efficace e non mai l'ampiezza l'ampiezza se fate i conti è di 311 volt ma nessuno mi ha mai detto guarda che nella presa elettrica dell'Enel ti trovi una tensione elettrica sinusoidale con valore massimo 311 tutti parlano di 220 volt intendendo ovviamente che si tratta del valore efficace bene procediamo adesso diamo un'altra definizione è quella di valore medio il valore medio la definizione è più semplice perché è proprio letteralmente la media in un periodo della nostra funzione periodica vedete che anche in questo caso la definizione si applica alla generica funzione periodica e quindi si tratta di fare l'integrale su un periodo o dividere per il periodo che proprietà saltano fuori beh anzitutto anche questo valore medio ha la stessa dimensione fisica della funzione che stiamo considerando volt se si tratta di tensione e così via l'altra cosa interessante è che stavolta la funzione integranda può presentare valori positivi e negativi e quindi quello che viene fuori dall'integrale e dalla media può essere negativo uguale a zero oppure positivo qualsiasi segno è legittimo in questo caso e allora le cose qui diventano intriganti perché possiamo sicuramente considerare il caso di quella grande classe di funzioni periodiche che ha valore medio nullo che ha questo a a zero uguale a zero beh le funzioni che godono di questa proprietà si chiamano funzioni alternate una funzione alternata è una funzione periodica a valore medio nullo come è scritto qui allora vedete che intanto ho svelato un segretino che era rimasto lì in sospeso dalla prima lezione cosa sono a rigore le funzioni alternate sono queste le funzioni alternate poi usiamo un pochino a sproposito l'addizione corrente alternata corrente continua per alludere quando diciamo corrente alternata a qualcosa di un po' diverso ma a rigore questo è quello che succede come vedete bene allora vi do un esempio un paio di esempi così tanto per mettere in luce in forma grafica come possono essere fatte le funzioni alternate quella di sinistra è una funzione alternata perché l'area grigio chiara è uguale all'area grigio scura ma quella è anche simmetrica rispetto all'asse temporale quindi la cosa intuitiva nell'andamento di destra abbiamo una diversa funzione periodica che è pure alternata pur avendo una forma non simmetrica rispetto all'asse temporale perché comunque l'area grigio chiara positiva è uguale all'area grigio scura negativa ma tra tutte le funzioni alternate le più importanti di tutte chiaramente sono le sinusoidi dove non ho fatto il disegno perché la cosa è talmente evidente che non occorre nemmeno metterla in luce ma certamente loro lo sono eccole qua bene allora a questo punto abbiamo un problema se la funzione sappiamo che è alternata è inutile andare a caccia del valore medio perché sappiamo che vale zero è perdita di tempo pura allora possiamo andare a caccia di qualche cosa di alternativo e la risposta c'è è il valore medio del modulo e quindi vedete effettivamente che nel caso di una funzione alternata si considera questo valore medio per definizione è il valore medio del modulo ma poi si dice semplicemente valore medio se abbiamo a che fare con una funzione alternata non può che essere lui quello che consideriamo lo so indica con A con pedice M minuscolo stavolta come vedete la definizione è quella che vi ho detto a parole si fa l'integrale del modulo stavolta in un periodo sempre in un periodo e poi si divide per l'intero periodo quello che salta fuori ancora una volta è una quantità che è la dimensione fisica della funzione di partenza e ovviamente visto che l'integrante è un modulo come avviene anche per il valore efficace il risultato non può essere che maggiore o uguale a zero anzi anche qui devo dire è uguale a zero solo nel caso di funzione identicamente nulla che è una situazione del genere e normalmente è maggiore di zero come avviene per il valore efficace allora a questo punto possiamo applicare questa definizione alle nostre funzioni sinusoidali ecco qui la situazione e quello che viene fuori sostituendo l'espressione della sinusoide nella definizione di valore medio del modulo sviluppando l'integrale non è un'integrazione particolarmente difficile ve la risparmio credetemi che viene fuori quello che è scritto qui salta fuori che il valore medio del modulo è due volte l'ampiezza diviso pi greco e quindi facendo i conti approssimando opportunamente visto che pi greco è un numero irrazionale sta anche al denominatore tra l'altro viene fuori 0,636 volte l'ampiezza ovvero circa il 63-64% dell'ampiezza e quindi è un po' più piccolo del valore efficace che vi ricordo era circa il 71% e vedete come si collocano nella diagramma che vi faccio vedere questi due valori sintetici del comportamento della sinusoide in alto abbiamo l'ampiezza indicata in nero a metà in posizione intermedia abbiamo il valore efficace indicato in azzurro e più sotto indicato in verde abbiamo il valore medio del modulo chiaramente ovviamente qui possiamo anche correlare questi valori e fare ad esempio indicare il valore medio in funzione del valore efficace quindi tolgo l'ampiezza e metto radice di due volte il valore efficace e tutto questo compattando si può scrivere come valore efficace diviso Kf ovvero definire Kf come valore efficace diviso valore medio per sostituzione banalmente viene fuori che questo è pi greco di diviso due volte la radice di due ovvero 1 e 11 ed è una dimensionale perché è un fattore numerico e basta si chiama fattore di forma e ovviamente si può definire anche per tutte le altre funzioni periodiche è ovvio perché le definizioni che ho dato da cui sono partito sono quelle di funzioni periodiche solo che se utilizzo funzioni periodiche generiche ovviamente ottengo non 1 e 11 1 e 11 salta fuori solo per le sinusoide e allora quanto più lontano il fattore di forma è dal valore 1 e 11 tanto più possiamo essere certi che la forma della funzione periodica si allontana da questa forma ideale ambita pregevole che è quella della sinusoide ok detto questo possiamo cominciare a mettere insieme più di una sinusoide perché ricordatevi che il nostro scopo è usare questi concetti nello studio delle reti in regime sinusoidale quindi non avremo in quel caso una sola sinusoide ma ne avremo tante per ora ci limitiamo a considerarne due eccole qui isofrequenziali lo vedete benissimo presentano lo stesso omega e quindi differiscono l'una dall'altra per l'ampiezza a massimo e b massimo e per la fase iniziale alfa e beta quindi se fate il calcolo del periodo sull'una e sull'altra qua non l'ho indicato in questo diagramma ma è una cosa abbastanza evidente ad occhio direi il periodo è sempre lo stesso perché omega è la stessa la differenza sta nelle ampiezze la cosa è evidente una raggiunge valori di ordinata più alti più massimo e l'altra a massimo e poi anche nella fase iniziale anche questo è evidente evidentemente in questo caso alfa è più grande di beta perché la curva rossa è traslata più a sinistra vi ho spiegato prima che quanto più grande è alfa tanto più la sinusoide trasla verso sinistra per valori piccoli del tempo e viceversa qui vedete che è indicata anche la distanza tra due zeri successivi della funzione dove ho identificato il valore di alfa in realtà è alfa su omega beta su omega perché la scala delle ascisse sono secondi tempi quindi vanno resi omogenei dividendo per omega che cos'è questo fi che compare qui? beh quella è una quantità estremamente importante estremamente importante si chiama sfasamento ed è la differenza tra la fase istantanea di una grandezza la prima e la fase istantanea della seconda ma siccome omega t è uguale per entrambi questa è anche in modo più banale più semplice la differenza tra le fasi iniziali vale la pena di precisare che per essere rigorosi bisogna dire lo sfasamento della prima rispetto alla seconda di A rispetto a B perché ovviamente potrei anche legittimamente considerare lo sfasamento opposto della seconda rispetto alla prima e sarebbe beta meno alfa e siccome ovviamente secondo dei due casi cambia il segno in modo molto evidente del risultato che si ottiene è importante precisare quale consideriamo per prima e quale per seconda quindi se si tratta dello sfasamento di A rispetto a B come faccio vedere qui o viceversa in questo caso con alfa più grande di beta viene fuori che fi è positivo ed è dato rapportato ad omega nella scala temporale da questa distanza tra questi due zeri delle due funzioni sinusoidali ovviamente questo valore fi può essere questo sfasamento può assumere valori diversi e ci sono dei casi importanti da considerare allora il primo se fi è uguale a zero può succedere si dice che le due funzioni sono in fase solo in questo caso si ha la fase quando fi è uguale a zero quindi quando alfa e beta sono uguali tra di loro oppure può succedere che fi è maggiore di zero come nel nostro caso vi ho indicato allora si dice che la prima grandezza A è in anticipo sulla seconda su B o in anticipo di fase però insomma non occorre neanche ripetere se si dice in anticipo si sa che si allude alla fase viceversa se fi è negativo si dice che la prima grandezza A è in ritardo sulla seconda queste sono le disuguaglianze che intervengono nei segni si possono anche considerare quattro valori specifici particolarmente rilevanti beh uno l'abbiamo già detto fi uguale a zero grandezza in fase l'altra situazione si ha quando fi è uguale a più o meno pi greco in questo caso si dice che le due grandezze sono in opposizione di fase ed è situazione radicalmente opposta dall'essere in fase tra un attimo vi farò vedere i diagrammi quindi ve ne renderete conto poi può succedere come casi notevoli di riferimento che fi sia uguale a più pi greco mezzi allora si dice che A è in quadratura su B ma siccome è positivo in quadratura in anticipo su B e l'ultimo caso che vi illustro è quello di sfasamento fi uguale a meno pi greco mezzi in questo caso abbiamo che A è in quadratura di nuovo rispetto a B però in ritardo perché lo sfasamento è negativo meno pi greco mezzi e quindi è una situazione diversa da tenere ben distinta rispetto a più pi greco mezzi i segni qui contano moltissimo in questi sfasamenti e lo vedrete bene più avanti però per ora ci limitiamo a vedere graficamente cosa succede nei quattro casi che vi ho presentato e questa è la situazione allora in alto a sinistra vedete che c'è siamo alla slide 15 c'è una situazione di sfasamento nullo fi uguale a zero alfa uguale a beta e vedete che questo significa che le due funzioni hanno gli zeri negli stessi istanti ma sono anche positive contemporaneamente e negative contemporaneamente nel caso fi uguale a più o meno pi greco più o meno la stessa cosa coincidono per la questione che dicevo prima delle fasi iniziali che devono coprire tutto l'angolo giro quindi che gli sfasamenti anche possono coprire tutto l'angolo giro abbiamo che anche in questo caso gli zeri coincidono di A e di B come vedete però in modo completamente diverso quando una è positiva l'altra è negativa e viceversa quindi sono situazioni vedete bene anche da come si presentano questi due diagrammi superiori ben diversi l'uno dall'altro andiamo sotto a sinistra e in questo caso abbiamo sfasamento uguale a più pi greco mezzi quindi siamo in condizioni di quadratura con come è positivo con A in anticipo sub in effetti vedete che lo 0 di A avviene in questo istante il primo 0 visibile e solo dopo un quarto di periodo ecco dopo un quarto di periodo interviene lo 0 della seconda quindi la seconda ritarda di un quarto di periodo di pi greco mezzi radianti rispetto alla prima in questo momento la prima è già diventata massima eccola qui il suo valore massimo proprio quando la seconda è nulla la seconda deve aspettare un altro quarto di periodo per diventare massima ma a questo punto la prima è già diventata nulla di nuovo e così via l'ultima condizione che vediamo è di sfasamento uguale a meno pi greco mezzi quindi condizione di quadratura però con la prima in anticipo negativo sulla seconda ovvero in ritardo abbiamo detto ed ecco quello che succede lo vedete qua in questo andamento abbiamo che la prima trova un valore massimo in questo istante ma avviene dopo un quarto di periodo da quando è diventata massima presentava il massimo la seconda e in questo istante quando la prima è massima la seconda è già nulla ci vuole ancora un quarto di periodo perché la prima diventi nulla eccolo qui ma in questo istante la seconda è già diventata minima massimo negativo qualcuno dice ma in realtà è giusto dire minima in questo istante qui e così via quindi anche qui vedete si assomigliano i casi fi uguale a più pi greco e mezzi fi uguale a meno pi greco e mezzi ma hanno anche questa profonda differenza nella relazione di fase chi arriva prima e chi arriva dopo ai punti notevoli e non dobbiamo assolutamente confondere queste situazioni bene un attimo bene passiamo avanti e adesso adesso vi presento uno strumento finora ho fatto una presentazione delle proprietà generali delle sinusoidi dei numeri che ci servono dei parametri che ci servono per qualificarle adesso entriamo nel vivo dello strumento di calcolo di cui facciamo uso perché in realtà non opereremo mai l'analisi delle reti o quasi mai usando proprio le sinusoidi che abbiamo visto fino a poco fa ma faremo invece uso di grandezze alternative e alle quali arriviamo tramite l'operazione che vedete indicata qui la trasformata fasoriale o trasformata di Steinmet allora a che cosa serve tutto questo? Come funziona? Beh dobbiamo fare mentre locale è quello che abbiamo appena visto poco fa guardando le due sinusoidi dobbiamo immaginare di trattare un mondo di sinusoidi un insieme di sinusoidi che appartengono a una rete che sta funzionando ad esempio lo dicevamo prima a 50 Hz quindi con omega uguale a 314 radianti al secondo tutte le sinusoidi hanno questo stesso omega allora in che cosa si distinguono l'uno dall'altra? Beh come abbiamo visto per A e B poco fa nell'ampiezza a massimo per una prendiamo la prima oppure nel suo valore efficace che è radice di due volte minore dell'ampiezza come abbiamo visto oppure nella fase iniziale che abbiamo indicato con alfa o se vogliamo anche nello sfasamento rispetto a una sinusoide che usiamo come riferimento delle fasi iniziali sono due parametri insomma che identificano ciascuna sinusoide limitiamoci a dire a massimo e alfa bene allora se fate caso in modo abbastanza semplice il processo in realtà più di un secolo fa quando si arrivò a questi risultati non fu assolutamente banale ma una volta che abbiamo ripulito i concetti il risultato che se ne ottiene è molto intuitivo devo dire allora usando questi stessi parametri l'ampiezza e scusate che non va avanti perché non vai avanti eccolo qua usando questi stessi parametri è possibile associare alla nostra sinusoide un numero complesso e questa associazione la cosa bellissima è che è bionivoca quindi ad ogni sinusoide associo un numero complesso e ad ogni numero complesso associo una sola sinusoide e in che modo funziona questo? Beh come vedete qua scritto appunto nella associazione diretta inversa a partire dalla sinusoide prendo il suo valore massimo la sua ampiezza la divido per radice di 2 e quello che viene fuori diventa il modulo del numero complesso poi della sinusoide prendo la fase iniziale alfa e quello che viene fuori è l'argomento del numero complesso vedete che sta scrivendo numeri complessi in forma polare come si dice o esponenziale allora siccome il valore massimo diviso la radice di 2 abbiamo visto benissimo che è il valore efficace il numero complesso si scrive modulo uguale al valore efficace e argomento uguale alla fase iniziale e non c'è verso da partire da questa sinusoide solo questo numero complesso si ottiene lui e null'altro viceversa se conosco il numero complesso lo vedete indicato qui di nuovo beh posso tornare indietro immediatamente in modo biunivoco senza che ci siano ambiguità su quale sarà la sinusoide di ritorno o di destinazione perché prendo il modulo lo uso come valore efficace quindi lo moltiplico per radice di 2 per ottenere l'ampiezza poi scrivo seno di omega t prendo l'argomento del numero complesso alfa e lo faccio diventare la fase iniziale quindi scrivo omega t più alfa a questo punto se volete due volte il valore efficace diventa l'ampiezza e ottengo la sinusoide ed è proprio quella di partenza quindi entrambe queste due trasformazioni in andata in ritorno sono univoche e alla fine ho creato una associazione biunivoca questi numeri complessi beh scusate devo dare anche una precisazione perché vorrei che poi non ci fossero ambiguità quello che sto scrivendo è un numero complesso in notazione polare o esponenziale quindi questo E che vedete qui corsivo è il numero di nepero importantissimo numero complesso scusate numero razionale chiedo scusa mentre stavo leggendo sotto mentre il J che vedete qui in ambito fisico matematico forse siete abituati a vederlo indicato con I è proprio l'unità immaginaria ovvero è la radice quadrata di meno uno come mai usiamo la J e non la I beh c'è tutta una tradizione elettrica intorno a questo quando si cominciarono a usare queste simbologie la lettera I era destinata all'intensità da corrente come dicevano i francesi e quindi per non fare confusione col simbolo della corrente che usiamo tuttora si è preferito introdurre la lettera J e diciamo che quello che vi propongo questa simbologia che vi propongo qui è quella di uso più frequente proprio anche nella letteratura internazionale non è uno sgiribizzo mio o italiano è proprio il simbolismo che si usa più frequentemente in tutto il mondo ingegneristico allora vedete che c'è anche un'altra particolarità i numeri complessi che ho costruito anzi è lui scritto due volte l'ho indicato sinteticamente con la lettera A con un trattino sopra ecco quel trattino sopra che io uso serve a specificare che si tratta di un numero complesso che ha la particolare proprietà che vi ho presentato è in corrispondenza bionivoca con una sinusoide potrei considerarne tanti altri numeri complessi ma questi che hanno questa proprietà vale la pena di metterli in evidenza per questa loro specifica proprietà e quindi metterci un trattino sopra e meritano anche un nome particolare si chiamano fasori fasori in inglese ovviamente e sono i numeri complessi lo ripeto qua è scritto in modo molto chiaro che rappresentano le sinusoidi una generica uno di essi una generica sinusoide dell'insieme isofrequenziale che appartiene a una rete che viene ottenuto tramite questa formula di trasformazione che vi ho illustrato che è la trasformazione di Steinmetz Steinmetz fu il matematico tedesco ingegnere matematico tedesco che sul finire dell'Ottocento era andato a lavorare alla General Electric negli Stati Uniti e pose i fondamenti di tutta questa formalizzazione matematica del calcolo delle reti in regime in regime sinusoidale raccogliendo e sviluppando i frutti del lavoro primordiale di altri studiosi fu lui che catalogò e classificò in modo compiuto questo metodo e quindi tutto il mondo tuttora lo chiama trasformata di Steinmetz e continua a chiamare fasori questi numeri complessi così creati simbolicamente invece di star a scrivere tutta la pappardella che c'è scritta qui posso dire così allora la trasformata di Steinmetz è un'operazione che applicata a una sinusoide mi rende il fasore A una sinusoide ADT mi rende il fasore A abbarrato e viceversa la antitrasformazione di Steinmetz l'operazione che torna indietro è l'operazione che applicata al fasore A mi rende mi permette di tornare alla sinusoide ADT se volete anche in forma grafica lo stesso concetto espresso qui sotto a sinistra abbiamo il mondo delle sinusoidi isofrequenziali di una rete a destra abbiamo il mondo dei fasori corrispondenti e si passa dai primi ai secondi con le regole di trasformazione che vi ho appena illustrato tramite il valore efficace che è moltiplicato per radice di 2 dall'ampiezza e la fase iniziale ho parlato di due mondi e forse avrei potuto dire due universi due universi paralleli uno dotato di materia e uno dotato di antimateria perché faccio questo paragone fantascientifico ma non tanto in realtà beh perché sono due mondi che non possono partecipare insieme ad eventi della rete possono solo essere trasformati l'uno nell'altro con la regola che abbiamo detto in altre parole qua dentro ci stanno solo le sinusoidi ed è proibito portare qui dentro i fasori altrimenti materia antimateria approvano l'esplosione dell'universo e analogamente nel secondo insieme ci stanno i fasori ed è proibito portarci dentro le sinusoidi perché altrimenti sarebbe un disastro in altre parole o si parla di sinusoidi e si opera solo con le sinusoidi o si parla di fasori e si opera solo con i fasori mai 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 detto tre volte mescolare fasori e sinusoidi perché viene fuori letteralmente un disastro guardate ve lo dico così colorando anche questa affermazione con una chiave di lettura fantascientifica ma lo dico perché sistematicamente c'è qualcuno che nei compiti mi mescola i simboli dei fasori con quelle delle sinusoidi e fa operazioni mescolate e potete immaginare quello che viene fuori viene sì l'esplosione dell'universo ma l'universo in questo caso è l'esito del compito ben andiamo avanti allora vediamo di formalizzare meglio l'operazione di trasformazione qual è il procedimento matematico che ci permette di formalizzarla beh banalmente è un'operazione di estrazione di parte immaginaria la vediamo qui prendiamo il fasore è questo A con la barretta sopra lo moltiplichiamo per un numero complesso che è E alla J di omega T lo moltiplichiamo anche per radice di 2 che invece è una parte reale chiaramente e a questo punto rielaboriamo quello che c'è dentro la parentesi il radice di 2 per A rimane lì poi se volete qua sotto diventa A massimo è l'ampiezza e poi abbiamo E alla J di alfa ho riscritto il numero complesso quindi qua il numero complesso era scritto in forma sintetica qua invece è sviluppato nella sua forma polare quindi vi ho già detto la parte la parte reale il modulo diventa l'ampiezza qua sotto è l'ampiezza non può che essere quella e alla J alfa moltiplicato per E alla J omega T si può raccogliere invece di fare il prodotto delle due funzioni esponenziali si fa la somma dei due esponenti e alla J di omega T più alfa e quindi alla fine siamo arrivati a questa espressione e a questo punto beh a questo punto qua potevo mettere a massimo direttamente ma l'avete capito applicando le formule di Eulero meravigliosa formula di Eulero dei numeri complessi che trasforma le notazioni polari in notazioni cartesiane abbiamo che quello che sta dentro parentesi è uguale a massimo per il coseno di omega T più alfa più J unità immaginaria a massimo seno di omega T più alfa allora vedete che effettivamente se prendo la parte immaginaria di questo numero complesso che è questa ottengo proprio la sinusoide quindi questa è l'operazione matematica che si potrebbe anche formalizzare in un algoritmo è un algoritmo questo di fatto e allora perché ve la presento perché dovreste sapere che l'operazione di estrazione di parte immaginaria gode delle proprietà di linearità è una di quelle bellissime operazioni che sono lineari e le conseguenze di un'operazione lineare è che si conservano lo sapete bene le somme e i prodotti per scalari cioè in altre parole sinteticamente lo vedete qui se A e B sono due sinusoidi le somme insieme ottengo la sinusoide C allora quanto vale la plastra scusa la stymes trasformata di questa sinusoide C che indico con C col trattino beh posso applicare la proprietà distributiva proprio perché si conservano le somme quindi invece di fare la trasformata di stymes della somma posso fare la trasformata di stymes dei due addendi A e B e poi sommare e quindi il primo addendo mi dà fasore A il secondo addendo mi dà fasore B e vedete che effettivamente è quello che viene fuori quello che vi ho detto se C sinusoide è la somma delle sinusoidi A e B allora C fasore il suo fasore di C sinusoide è la somma dei fasori A e B letteralmente proprietà banale semplice ma estremamente potente per la moltiplicazione per uno scalare per una quantità reale vale la stessa cosa se C di T è il prodotto di uno scalare K per una sinusoide A allora la sua trasformata di stymes C maiuscolo portando K fuori dall'operazione di trasformata di stymes per via della linearità si ottiene che il risultato è K volte A e quindi vedete che va via liscia anche questa sono le solite proprietà di linearità che credo i matematici vi hanno presentato in mille salse diverse si trovano spesso vedete che qua sono estremamente utili a noi allora detto in altre parole se volete si può anche dire questo che se C è la somma di A più B nel mondo delle sinusoidi C il suo fasore è la somma dei fasori A e B nel mondo dei fasori e sono i fasori delle due funzioni A e B e sotto se C è uguale a K nel mondo delle sinusoidi C fasore è uguale a K volte A fasore nel mondo dei fasori sono bellissime queste proprietà però in realtà lasciano ancora un buco un buco nella nostra trattazione perché noi abbiamo bisogno anche di fare qualche cos'altro allora la linearità indica lo ripeto che i fasori sono la somma algebrica e il prodotto scalare dei fasori sono le operazioni che corrispondono alla somma algebrica e al prodotto per scalare delle sinusoidi è il commento di quello che abbiamo appena visto però ci serve anche stavo dicendo un'altra operazione quella di derivata temporale mi manca o no vabbè pazienza in quel temporale perché mi preoccupo della derivata perché abbiamo visto benissimo trattando i bipoli dinamici che nelle loro equazioni tensioni corrente intervengono le derivate quindi dovrò fare i conti prima o poi anche con le derivate non posso accontentarmi solo di somme algebriche e prodotti per scalare come avveniva nelle reti a dinamiche in regime stazionario devo tenere conto anche delle derivate e quindi devo inventarmi l'operazione che nei fasori corrisponde è la derivata temporale delle sinusoidi attenzione i fasori non sono funzioni del tempo quindi non posso sognarmi di far la derivata del fasore viene fuori niente chiaramente devo trovare qualche cos'altro allora quello che faccio è prendere la funzione sinusoidale adt calcolarne la derivata e vedere com'è fatta i passaggi sono abbastanza semplici adt è la solita facendo la derivata o a massimo il seno diventa coseno e poi devo tenere conto che il tempo dentro all'argomento ho moltiplicato per omega quindi ho funzione di funzione derivando qua dentro mi salta fuori questo omega quindi il risultato è omega a massimo coseno di omega t più alfa però allora però anzitutto omega per a massimo a questo punto gioca il ruolo di ampiezza della funzione che ho ottenuto o di valore massimo e poi ho una funzione sinusoidale scritta in coseno e come vi ho detto 20 minuti fa questo mi dà molto fastidio perché io per riconoscere gli sfasamenti ho bisogno che tutte siano scritte in seno ma la cosa si sistema subito basta trasformare seno in coseno scusate coseno in seno e nel fare questo devo aumentare di pi greco mezzi l'argomento eccolo qua e quindi vedete che la fase iniziale cioè tutto ciò che si aggiunge a omega t quando scrivo in seno è alfa più pi greco mezzi e allora qui ho la chiave di lettura di quello che mi serve c'è tutto qui perché devo dire che la trasformata di questa sinusoide che è la derivata di ad t è fatta in questo modo a modulo che è pari a omega per a massimo ovviamente diviso radice di 2 quindi alla fine viene fuori omega per a efficace ed a fase iniziale che è alfa più pi greco mezzi eccolo qua e l'abbiamo costruito qua adesso facciamo piccolissima algebra complessa e riconosciamo che e alla j di alfa più pi greco mezzi lo possiamo scrivere distribuendo la somma sui prodotti degli esponenti e degli esponenti sulla somma sul prodotto degli esponenti degli esponenziali e alla j alfa per e alla j di pi greco mezzi ma a questo punto sempre per le formule di Euler che avremo modo di vedere e commentare e alla j di pi greco mezzi si scrive come j e quindi e quindi alla fine ho che il risultato è j omega per il fasore A cioè in altre parole quello che è scritto qui è che in campo fasoriale il prodotto per j omega questo fattore moltiplicativo del fasore A corrisponde all'operazione di derivazione eseguita sulle sinusoide che sono scritte qui il che è un risultato davvero notevole ed è quello che dà potenza al metodo che stiamo imparando a conoscere quindi facendo la sintesi eccole qui le operazioni somma di sinusoidi ha come corrispondente la somma dei fasori moltiplicazione per scalare di sinusoidi ha come corrispondente l'analogo prodotto per scalare dei fasori derivazione temporale ha come corrispondente il prodotto per j omega quindi qua è il prodotto per uno scalare reale qua è il prodotto per una quantità immaginaria j omega cosa c'è di notevole? c'è di notevole che questo è il mondo delle operazioni che dovremmo considerare operando sulle sinusoidi e sono algebrico differenziali perché qua c'è una derivata algebrico differenziali ma quando salto nel mondo dei fasori quando considero queste relazioni evidentemente siamo operiamo su numeri complessi ma sono tutte operazioni algebriche qua c'è una somma qua c'è un prodotto per k qua c'è un prodotto per j omega e il fatto che siano tutte algebriche è un risultato di portata computazionale di analisi veramente formidabile come vedremo adesso prima di andare avanti prima di andare avanti devo ricordarvi che i numeri complessi io ve li ho presentati finora in forma polare a modulo per e alla j alfa argomento ma in realtà si possono scrivere in due modi diversi esiste la forma polare che vedete ripresa in questa slide a sinistra e anche la forma cartesiana ovvero parte reale più j parte immaginaria allora quello che dobbiamo avere in mente è che se sempre è possibile trasformare una notazione polare in una cartesiana e viceversa le operazioni di trasformazione sono quasi completamente semplici allora guardiamo prima la cartesiana che sta qui quindi immaginiamo note le notazioni polari a modulo e alfa argomento la parte reale applicando la solita equazione di Eulero che già vi ho introdotto prima è a volte modulo per coseno di alfa e la parte immaginaria è a volte il modulo per il seno di alfa quindi operazione banale da fare vediamo le trasformazioni inverse ovviamente se voglio passare dalla notazione cartesiana che è questa a quella polare il modulo è la parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato e qua va bene tutto facile qui sotto invece c'è un piccolo problema perché dovrei scrivere che facendo il rapporto di parte immaginaria andiamo di scriverlo qui diviso la parte reale la cosa viene fuori viene fuori a immaginaria se in alfa diviso a cos'alfa viene fuori a va via si semplifica la tangente trigonometrica io la scrivo così di alfa eccola qui questo punto viene da dire faccio la funzione inversa all'arco tangente ottengo alfa e invece le cose non vanno esattamente così perché c'è un piccolo problema se avete studiato bene le funzioni trigonometriche e le funzioni inverse trigonometriche dovreste ricordarvi che l'arco tangente questa operazione qua restituisce valori a codominio si dica così dicono i matematici che va da meno pi greco mezzi a più pi greco mezzi se non mi credete vi invito a ripassare le funzioni trigonometriche inverse e questo a noi non può andar bene non può andar bene perché vi ricordate cosa ho detto fin dall'inizio vi avevo scritto alfa è compreso tra meno pi greco e più pi greco disuguaglianza anche qua più pi greco ecco quindi che se mi accontentassi della quello che mi racconta la macchinetta calcolatrice facendo il calcolo arco tangente rischio di perdere un'informazione importante la vera collocazione nel cerchio trigonometrico del valore di alfa per riconoscere dove sto effettivamente devo guardare il segno della parte immaginaria il segno della parte reale riconoscere il quadrante e quindi fare la opportuna correzione se serve ovvero se a immaginario è positivo allora questo i qui vale zero se invece a immaginario è negativo a secondo del valore del segno della parte reale devo aggiungere o togliere pi greco e quindi questo i vale uno in questo caso più o meno uno più o meno pi greco la cosa qui torneremo facendo anche i conti di cui non dobbiamo assolutamente dimenticarci altrimenti prendiamo delle cantonate è scritto quello che vi ho appena detto è necessario per riportare alfa nel suo dominio reale tra meno pi greco effettivo tra meno pi greco e più pi greco bene allora queste operazioni di cui vi ho parlato sono quelle che ci servono per fare l'analisi delle reti ve lo ricordo perché adesso possiamo mettere a fuoco il problema le somme algebriche ci servono per perché nello scrivere le equazioni topologiche di rete quelle della legge delle tensioni e quelle della legge delle correnti dobbiamo fare somme di sinusoidi i prodotti per scalari ci servono perché nel trattare le equazioni tipologiche dei bipoli e doppi bipoli adinamici appaiono moltiplicazioni per scalari lo sappiamo bene resistenze conduttanze eccetera rapporti di trasformazione eccetera le derivazioni temporali ci servono perché nelle equazioni tipologiche di chi dei bipoli e doppi bipoli dinamici che abbiamo conosciuto nelle ultime due lezioni e lì servono le derivate e allora ecco perché utilizziamo i fasori perché utilizzando i fasori il metodo simbolico l'esecuzione di queste non solo l'esecuzione anche la scrittura delle equazioni prima di tutto risulta molto più compotta e le operazioni di calcolo risultano più semplici quindi c'è una grossa agevolazione sia formale che operativa nell'analizzare la rete sviluppare l'analisi stando sui fasori piuttosto che stando sulle sinusoidi abbandonando l'universo delle sinusoidi e saltando nell'iperspazio nell'universo dei fasori molto sinteticamente poi avremo modo di ripassarle queste cose poi sono concetti che dovreste sapere ecco quello che viene fuori se devo sommare due sinusoidi A e B che hanno la solita formula che vi ho presentato posso ottenere una sinusoide C che è la somma e ovviamente con le formule di addizione di seno e coseno con tutte le complicazioni eccetera che dovrebbero essere a voi ben note se invece sommo due fasori corrispondenti alle sinusoidi questo è il mondo dei fasori vedete che appena li scrivo in formula cartesiana la somma è banalissima si sommano le due parti reali e si ottiene la parte reale del risultato si sommano le parti immaginarie e si ottiene la parte reale immaginaria del risultato l'operazione è molto più snella più liscia se devo fare un prodotto per uno scalare beh diciamo che c'è sicuramente una compattezza di scrittura perché se la sinusoide è A massimo per il seno di omega t più alfa il prodotto per uno scalare k di questa sinusoide si chiama c massimo per il seno di omega t più gamma e qua vedete ho messo gamma che non è necessariamente uguale ad alfa perché k potrebbe anche essere lo scalare potrebbe anche essere negativo chi ci impedisce di dover pensare a un k negativo e allora quando k è negativo bisogna applicare il modulo a k nel definire il modulo di c massimo i moduli non possono che essere positivi e quindi la fase iniziale gamma è uguale ad alfa se k è positivo ma va rovesciata di più o meno pi greco se k invece è negativo per quanto riguarda l'analoga operazione sui fasori non c'è nessuna complicazione particolare da un punto di vista matematico ma sicuramente c'è un compattamento di scrittura guardate le prime due scritture sono estremamente più compatte scrivendo sui fasori la costruzione del modulo c e della fase iniziale gamma è esattamente la stessa che ho appena commentato per le sinusoidi e infine l'ultima operazione l'ultima operazione è quella di derivata temporale abbiamo già commentata se dovessi fare ogni volta una derivata temporale delle sinusoidi dovrei scrivere queste operazioni ricordando che c massimo è alfa scusate è omega per a massimo e che la fase iniziale gamma è alfa più pi greco mezzi l'operazione che facciamo sui fasori è molto più compatta come avete visto si tratta di prendere il fasore di partenza moltiplicarlo per j omega e si ottiene il fasore rappresentativo della derivata ovviamente le formule di trasformazione sono le stesse quindi c'è un compattamento anche in questo caso ebbene vediamo l'ultima slide di questa lezione poi mi fermo allora dato che le operazioni sui fasori vi scrivo sono più veloci e compatte di quelle sulle sinusoidi conviene può sembrare strano ma davvero conviene prendere quando si bisogna analizzare una rete le sinusoidi note di partenza i dati di ingresso i termini noti chiamateli come volete della rete trasformarli mediante la trasformata di Steinmetz in fasori fare poi i calcoli sulla rete operando nel mondo dei fasori arrivando a calcolare i fasori incogniti i fasori dei sinusoidi incogniti e quando abbiamo ottenuto i fasori finali incogniti li abbiamo finalmente resi noti a questo punto antitrasformare e passare dai fasori così calcolati alle loro sinusoidi rappresentative che sono le incognite iniziali del problema può sembrare una strada più lunga ma quando le reti sono un minimo complesse ci sono dei vantaggi enormi operativi di velocità di chiarezza di calcolo e così via e poi ci sono anche altri vantaggi che però li vediamo la volta prossima quando concluderò questo capitolo per ora oggi ci fermiamo qui grazie dell'attenzione e arrivederci a presto grazie a tutti